Il mondo Milan è veramente un mondo grande che non capirai mai come scoprirlo, quindi è una cosa veramente che ci emoziona e siamo contenti di essere stati qui. È un'emozione unica, veramente un format nuovo, veramente bello, fa sentire la società, vicini ai tifosi veramente, fa sentire il calore, fa sentire la vicinanza, piccoli aneddoti raccontati direttamente da loro che magari non sapresti mai o avresti difficoltà comunque a venirne a conoscenza e ti fanno sentire, ti fanno vivere la passione veramente a 360 gradi. Mi porterò per sempre nel cuore il regalo anticipato di compleanno, tra dieci giorni faccio 24 anni e ho avuto un incontro con Fabio Burini, uno dei miei giocatori preferiti e i miei amici del Milan Club mi hanno regalato una maglia di Fabio Burini se posso. Vi ricordo, hashtag World Milan Club.